Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video Sto registrando il video tra l'altro che... Che minuto stiamo? Perché tanto praticamente la partita è finita Magari se gentilmente mi facessero vedere il minuto Eh? Questi cazzo dei replay Siamo al 79esimo, ok? Quello che mi serviva da vedere l'ho visto Il risultato anche vincessimo Non è che cambia quello che voglio dire Allora, comincio col dire che Pairetto ci sta facendo No, Pairetto, però comunque è stalking Perché in otto partite che abbiamo giocato In quattro c'è lui, tre era il VAR Oggi è arbitrato Tra l'altro fino adesso non ha arbitrato nemmeno male Per come avuto io E invece stava il VAR contro la SPAL Contro la Fiorentina E contro il Lecce Oppure contro l'Atalanta Stava il VAR Vabbè Comunque In otto partite che abbiamo giocato In quattro c'era lui Poi Proclami europei inutili Tipo quelli dei Ceppitelli Prima della partita Dicendo che il primo passo l'abbiamo raggiunto Adesso si punta a un qualcosina di più Si vede Si vede Anche Zenga in conferenza stampa Quando gli hanno chiesto Se vede Nandez in una big europea Sì, lo vedo al Cagliari Dai Per favore Per favore Dai Dai Per favore Statevi zitti Che fate più bella figura Veramente Però vi giuro Sembra sano Sono molto sarcastico Ma è ovvio Però non sono incazzato Perché tanto A questo periodo dell'anno Vincere, perdere o pareggiare Ormai è la stessa identica cosa C'è chi ancora dice Eh ma tanto la matematica Ancora non ci ha condannato Se volete usare sta favoletta Per credere che l'Europa è ancora possibile Peggio per voi Però ormai È bella che è andata Il Cagliari non ha più nulla da chiedere al campionato E quindi amen Poi regà Cioè è bellissimo Io non so se notate Molla col muto alla tv Non so nemmeno se si sentirà Però io Ho preso il vizio Perché mi piace proprio Sentire le partite senza la telecronaca Ove mi è possibile In alcune purtroppo non si va Perché quando cambi lingua C'è il telecronista di alcune squadre Dipende da chi gioca E a me mi gusta sentire le partite così Perché senti tutto Senti veramente tutto E Regneri Che poi questo penso l'abbiate sentito anche Quelli che c'erano la telecronica Ha detto Regà Il Cagliari fa sempre quest'azione Fanno sempre questo Cioè siamo No prevedibili Di più Di più Sì vabbè mostrare pezzitti Cioè Siamo veramente Imbarazzanti Imbarazzanti Poi Un minuto Secondo me Però Cioè Proprio per scrivere qualcosa Da poter dire nel video Perché se no Non avrei detto Una minchia proprio Manca un minuto di recupero Nel primo tempo Perché Essendoci stati due gol Trenta secondi per gol Il minuto di recupero Ce lo rimette Però è finito al 45 E se lo provo A Berga So qui squiglie Poi un'altra informazione Che il video Di Cagliari Sassuolo Uscirà domenica pomeriggio Non sabato Dopo la partita Perché Fortunatamente Devo dirlo Fortunatamente Non sarò a casa Non potrò vederla Sarò ad una festa Quindi Me ne sbatte proprio Il cazzo Di quella partita Perché tanto ormai Non ci siamo più Da chiedere niente Al campionato E poi L'ultimo argomento Di cui voglio parlare È il fatto Che 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 volevo dire Ah sì Che Darà anche il titolo A questo video Ovvero Anche oggi Esordiscono domani Stai sul 3-0 C'è la possibilità Dei fai sordi Qualche Qualche giovane Giusto per fargli Da un assaggio Nel campionato C'hai questa possibilità Tu scegli di mettere in campo Mattiello e Paloschi Mattiello E Paloschi Poi io della partita Non voglio di niente Perché tanto la partita Ha parlato da sola Non mi metto a giuricare I singoli Non mi metto a giuricare La partita Perché penso L'abbiate vista E c'è ben poco Da giuricare Però questo era Quello che volevo dire A prescindere Dal risultato Se cambierà O meno E niente ragazzi Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate E detto questo Noi ci becchiamo In un prossimo video Bella Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo